Buonasera e benvenuti a 4 chiacchiere con Patrizia Ballacchino, responsabile del gruppo Solo in regalo Provincia e Alessandria. Benvenuta. Grazie, grazie a voi per l'ospitalità. Allora, spiega. Quando, perché è nato questo gruppo? Allora, il gruppo di Facebook è nato sei anni fa circa, è nato un po' così per gioco, per scambiare tra noi mamme e genitori l'abbigliamento, cose che non servivano inutili in casa. Poi per pure casualità le cose sono diventate un po' più grandi, ci hanno iniziato a chiedere l'aiuto, se potevamo dare una manola di aiuto in più e quindi così abbiamo iniziato ad allargare le nostre vedute. E ci siamo resi conto che effettivamente ci piaceva fare questa cosa qua. Poi man mano ho incontrato nel mio percorso persone stupende con le mie collaboratrici e è diventato sempre più grande. Diventando sempre più grande siamo riusciti a fare delle cose abbastanza grosse, tipo aiutare famiglie veramente in grosse difficoltà, gente che abitava nei camper dove non avevano riscaldamento, dove non avevano legna, siamo riusciti ad andare ad Amatrice. Quest'anno c'è stata la bellissima iniziativa di Babbo Natale, regalare un sorriso ai bambini e adesso c'è l'emergenza della guerra e abbiamo deciso di metterci di nuovo davanti e quindi abbiamo deciso ragazzi cosa facciamo? Iniziamo e quindi abbiamo iniziato tramite il nostro canale Facebook Solo in Regalo di iniziare a pubblicare e far girare la voce tra tutta Alessandra e la provincia con la collaborazione del comune di Borgorato e il sindaco di Borgorato abbiamo iniziato questa grandissima collaborazione. Ieri è partito il primo grande tier ma veramente grande da novi, poi vedrete l'immagine spero ed è stata un'enorme soddisfazione, quindi questo è quello che stiamo più o meno cercando di fare. Quindi, ma hai detto che il gruppo si è ingrandito, il gruppo su Facebook, ma ingrandito non è poco, perché quanti follower ci sono? Abbiamo 5.600 iscritti più o meno, più il passaparola, il passaparola come tu sai è la cosa più importante che possa esistere e con il passaparola riesce a fare veramente tanto e noi ringraziamo sempre tutti perché comunque ci vuole anche tanta fiducia perché noi siamo persone, non siamo un'associazione, quindi non è che dici ci affidiamo a un'associazione, ci affidiamo a delle persone a delle famiglie normali che vivono con un semplice stipendio che al mattino quando finiscono di fare quelle cose che hanno da fare caricano le macchine e iniziano a distribuire, caricare, lavare, smistare, i peluci che abbiamo portato anche a Verona negli ospedali che è stata anche quella una cosa bellissima, l'aiuto agli animali che diamo, che anche lì è una cosa molto fondamentale non possiamo fare delle cose enormi, però diciamo che nel nostro piccolo, con i nostri 5.600 persone più tutte le persone che ci conoscono, che ci chiedono, riusciamo a fare veramente tante cose quindi è regalare un sorriso, ma non solo perché l'aiuto come questo tir è stato ben più che un semplice sorriso e i follower sono di ogni età sì ed è bello quello sì poi vi farò vedere un'immagine di un bambino di un disegno, scusami ho sbagliato di un disegno di un bambino dove ha messo la bandiera dell'Italia, la bandiera dell'Ucraina un cuoricino da parte di Joelle e quella è la cosa che ti riempie veramente di felicità perché ti rendi conto che anche i bambini vogliono fare parte di quel perché per me non è un gruppo, io la chiamo sempre una grande famiglia perché questa è diventata la mia grande famiglia e sono veramente soddisfatta quindi il nostro tempo è finito purtroppo un arrivederci a presto grazie e da parte degli ascoltatori assolutamente andate sul gruppo a vedere e aiutate anche voi grazie mille grazie a te grazie ciao arrivederci a tutti arrivederci